Non importa quante lati tanti o criminali tu abbia preso, fai una stronzata e tocca se sei fuori. Loro non capiscono l'importanza dei compromessi. Possono provare a fermarci tutti i modi. Fuori la pistola! Con le vallottole, con la pistola, con le inchieste, su chiacchiere, non serva niente. Non si infama. Sa quella è la verità, che noi ci rialziamo sempre. Perché noi siamo combattenti. Non siamo come allora, però. Non siamo come ancora. Non siamo come ancora, fracciamo. Noi siamo poliziotti. Non do scurda mai. Io nella vita ho fatto cose terribili. Non ci sono giusti, non ci sono più d'acopera. Ciao. Ciao. Ben tornato.